Innanzitutto, in questo affiancamento su che cosa abbiamo lavorato? Praticamente Alessandro stava andando da un cliente, lui rappresenta un brand, una multinazionale, quindi un'azienda estremamente performante e conosciuta, lui è bravissimo, però a un certo punto si trova davanti questo cliente un po' difficile. Dice, aspetta un attimo, quasi quasi chiamo Giuliano, mi ha chiamato, senti Giuliano, puoi venire con me che voglio portare a casa lo scalpo di questo cliente? Di cosa stiamo parlando? 300, 500, non so. Vabbè dai, ci hanno messo d'accordo ovviamente sul quantum, lui ha chiamato il suo CEO, ha detto Giuliano vuole tutti questi soldi, cosa facciamo? Lo prendiamo o no? Lo prendiamo, per fortuna, per me ovviamente. E quindi sostanzialmente che cosa abbiamo fatto? Adesso ve lo racconterà lui, io vi faccio un po' una sintesi. Comunque, siamo andati a lavorare un po' sull'empatia con il cliente, perché ci eravamo accorti che non eravamo proprio entrati nel massimo dell'empatia, poi abbiamo sistemato il preventivo, abbiamo fatto delle mail con delle presupposizioni all'interno allontanandoci dalla vendita, siamo andati in over delivery assistendo il cliente sulla 4.0 che dopo vi spiegherà lui, e dopo vabbè lui ha firmato il contratto, perché a quel punto io diventavo inutile e quindi l'ha firmato lui. Allora, un po' più di un anno fa questo cliente, veniamo a conoscenza di questo cliente che aveva una necessità. Io prendo contatti, lo visito e riesco subito ad avere un buon dialogo con una persona dentro, quindi un manager tecnico che mi assiste nella definizione tecnica del progetto. Noi vendiamo tecnologia, quindi poi anche servizio, ma principalmente tecnologia. Quindi con questa persona facciamo davvero un bel lavoro di definizione tecnica del progetto, faccio anche un avantprogetto, dopodiché si tratta di sedersi a tavolino e parlare con la proprietà. E lì iniziano... E li acquista l'analisi però. Scusami? Li acquista l'analisi anche, ha comprato subito l'analisi dell'impianto. Siamo stati bravi perché gli abbiamo venduto anche la preprogettazione, l'avantprogetto in 3D, gliel'abbiamo venduto, un po' come esca, come dire, se poi mi fai l'ordine della macchina sostanzialmente te lo sconto, quindi era un po' anche come... Ci pagano, devo dire, anche bene questo avantprogetto, dopodiché, quindi ero ormai quasi sicuro di averlo preso, l'ordine, quindi vado a discutere con le decisioni... Esatto, scusate, se uno acquista il progetto, la progettazione in 3D della macchina, te la faccio come la vuoi, ti faccio vedere che funziona, ti dico ok, ovviamente ci sfreghiamo le mani, ma invece noi ci sfreghiamo le mani solo quando i soldi sono in conto corrente. Sì, mai come questa volta. Quindi mi trovo di fronte alla proprietà che inizia subito, come dire, un approccio molto positivo, quindi probabilmente io ero un po' troppo sicuro di me, troppo sicuro di aver mai chiuso il progetto, iniziamo una sequenza infinita di opposizioni, no così no, così no mi piace, la concorrenza mi fa questo, a me piace di più questo sistema della concorrenza rispetto al tuo. Mi sono trovato effettivamente spiazzato. Dalla mia parte c'è stato il buon rapporto che avevo con la figura tecnica interna, sempre dipendente di questa azienda, che in qualche maniera mi ha spalleggiato, ma alla fine chi cacciava fuori il grano era il padron che invece ha stoppato tutto. Il titolare. Ha stoppato tutto, tanto che io sono tornato da estremo est, io sono da Torino, ho fatto un paio di viaggi sostanzialmente a vuoto, dopodiché ho detto cosa devo fare. E sono venuti anche in azienda. Sono venuti anche da noi, padre, figlio, e sono venuti anche da noi. Allora a quel punto ragiona, 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 ma non riuscivo a entrare in empatia con questa persona, con il titolare. Contatto il buon, il nostro buon Giuliano, gli spiego tutta la situazione, lui dice guarda facciamo una cosa, ho capito, mandami un po' le email che gli siete scambiati. Email preventivo, quindi ha analizzato un po' la scena, dopodiché ci siamo messi d'accordo e basta. Ci siamo messi d'accordo, ho detto ok, fissa un altro appuntamento, passa da Padova a prendermi, che si va insieme. Adesso è andato proprio assieme fisicamente. Effettivamente il lavoro, l'aiuto che ho avuto da parte di Giuliano è stato proprio questo, cioè creare rapporto con chi poi ha preso, chi aveva il potere. Qui ho notato, come dire, davvero quelle tecniche di approccio e di creare relazioni, di dare importanza al cliente, di dargli certezze. Ricordati i bisogni dell'essere umano, certezze e importanze. Io con il titolare ho lavorato subito su certezze e importanze. Emblematico è stato, parlavamo prima pranzo, un momento in cui il manager di questa azienda, che era fortemente pro progetto, anche perché l'avevamo studiato insieme, spingeva per questa cosa. La proprietà a un certo punto si è, ma arrabbiata in maniera anche importante, ha detto ma tu sei pagata da noi o sei pagata da Inmaker? Alza, ti vai dall'altra parte, ma quasi urlando e sbattendo anche. C'è stato un gelo, come ho detto, caspita, l'abbiamo persa di nuovo. Io effettivamente in una situazione di genere non ho mai vissuta. Io l'ho ripresa, ho abbassato i toni, ho zittito il manager e lei il boss. Ci dica cosa dobbiamo fare per soddisfarla al meglio. Adesso ovviamente ragazzi le parole esatte non me le ricordo, però il concetto è un po' questo. Quindi l'ho rimesso lui al centro della scena. Perché è un imprenditore che parte da zero, fa 80 milioni di fatturato. Attenzione, era l'autista? Chi era? Il camionista? Camionista. Era il camionista e l'azienda. Dopo l'azienda è andata male, se l'hai comprata, capite che ti guarda e ti dice ma tu chi sei? Ok, quindi questo è il concetto un po' che vi ho detto anche i primi giorni. Il vostro cliente deve essere re, dovete portarlo su un palmo di mano sempre. Ok, quindi abbiamo rimesso ordine, gli ho fatto capire che era lui il maschio alfa. Così. Poi si è calmato e abbiamo ripreso. No, se poi sei stato bravo a ridare anche credibilità a questa persona manager, perché comunque ci ha dato e continua a darci una mano nella parte che verrà adesso, perché adesso inizierà poi la fase di costruzione, insomma, la seconda fase. Un altro passaggio importante, ragazzi, che siamo tornati dal cliente anche quando magari sembrava non necessario. Quindi dovevamo magari vedere una piccola cosa e io dicevo a lui montiamo in macchina e andiamo fisicamente dal cliente. Magari lui mi diceva, ma no Giuliano, ma dai mandiamo via mail, discutiamo, vi do chiamare, no, 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 perché il canale di comunicazione con una persona che ha 70 e qualcosa anni non funziona, videochiamate, cazzi e massi, bisogna andare col culetto lì. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da una distanza così, piano piano ci vede, ci vede, ci vede, vai, 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 a volte siamo stati lì anche dieci minuti e siamo tornati dietro perché questo qua ci ha liquidato subito. Ma non importa, intanto ci ha visto, siamo tornati. Cioè quando ragazzi e trattative sono così importanti, ovviamente deve valerle una pena, è chiaro. Però il mio consiglio è sempre quello di andare fisicamente perché poi entra in ballo anche l'aspetto cinestesico della trattativa, entra anche l'aspetto energetico perché non siamo in videochiamata, io sono qua, tu sei là, siamo vicini. Ricordo anche la ridefinizione dell'offerta, la proposta di valore, quindi non chiamarla offerta, chiama la proposta unica di valore. Poi abbiamo fatto la versione light e la versione full. Poi noi che siamo un gruppo... E i 15 punti anche non avevate? I 15 punti. Beh adesso comunque ve la apro l'offerta. C'era, ecco un altro aspetto che mi hai fatto fare, che abbiamo fatto insieme, è proprio la ridefinizione dell'offerta. Quindi noi abbiamo delle offerte master. Io gli ho detto personalizza. Via, personalizza, caratteri più grandi, perché questa come diceva, una persona di 80 anni ha bisogno di caratteri più... Sembrano bazzecole, però ho rifatto un'offerta in uno standard che non esiste, che è per lui. Sono tanti piccoli dettagli che però poi alla fine hanno fatto la differenza, credo. Quindi c'è stato un lavoro proprio di customizzazione, non solo del progetto, ma proprio della presentazione della proposta. Questa è l'offerta. Adesso vi faccio vedere un attimo. Allora, passaggi chiave. Le sottolineature. Aspetta, vabbè, a parte questa che è la parte introduttiva, vabbè il gruppo, questo non c'entra niente. Eccolo qua. Mettere delle ancore visive. Ancore visive cosa vuol dire? Le ancore visive sono quelle cose che fanno cadere l'occhio lì, quindi il sottolineato, il grassetto, il corsivo. Quindi abbiamo messo, abbiamo sottolineato alcune parti e fatto in grassetto alcune altre. Poi abbiamo messo i numeri davanti a uno, a due... Quelli non mi ricordo se c'erano, forse quelli là c'erano. Ok, poi andiamo avanti, andiamo avanti, vabbè, tutto super dettagliato, ovviamente. Dov'è il... Sì, sì, no, no, è lunga, è lunga, è lunga. Vedete il famoso preventivo da tante pagine. Ok, vabbè, poi qua gli importi. No, volevo arrivare al... Perché scegliere? Scegliere, forse l'ho passato. È in fondo, è in fondo. È in fondo. Ah, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Analizziamo nel dettaglio, quindi, i punti di forza del nostro sistema. Ok, quindi no della nostra macchina, perché macchina magari potrebbe essere più confrontabile dentro la testa del potenziale cliente. Il sistema è diverso, è il nostro sistema. Cioè, sono tanti piccoli dettagli, e loro questo non ce l'avevano. Allora, gli ho detto, ma scusale, ma sta roba dobbiamo metterla dentro l'offerta. Quindi, abbiamo messo dentro, abbiamo tirato fuori praticamente i 15 punti di forza del loro sistema, li abbiamo messi giù, e anche track record dell'azienda, perché se vedete magazzino, piuttosto che, vabbè, tante cose che magari adesso noi, anche se le leggiamo, ovviamente non le capiamo, perché non siamo del settore, giusto? Però a me interessa che capiate che quando fate un preventivo, il cliente deve capire perché deve scegliere voi, piuttosto che qualcun altro. E se queste cose non le argomentate, il cliente vi dice, ok, fammi vedere altri preventivi. Capite? Nei primi incontri, quando sono stato messo a confronto con la concorrenza, appunto la cosa mi ha spiazzato, ne ho parlato poi con Giuliano, e siamo andati poi a trovare quello che noi chiamiamo sistema 48.1, abbiamo chiamato, vi dice poco, però sostanzialmente la concorrenza utilizza un attuatore per dosare e noi ne abbiamo 48. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire, abbiamo venuto così al nostro cliente, che se il cliente, se la macchina della concorrenza ha un problema su quell'attuatore, loro se lo fermi. Con la nostra invece, ho un problema su un attuatore, però ne ha altri 47. Mentre tornavamo poi in macchina, mi diceva, non ti preoccupare Alessandro, ormai gliel'hai detta, sta cosa qua non lo farà dormire. Ovviamente dovete essere disposti a perdere il cliente. Sì, sì, siamo andati via. A quel punto là siamo andati via, come diceva prima. E poi altra cosa importante, ovviamente, prima di annientare la concorrenza, dovete essere sicuri di essere in estrema empatia, perché allora il vostro messaggio arriva. Se non siete in estrema empatia, potreste dare fastidio. Ma chi sei tu per dirmi a me che cazzo devo fare? Capito? Questa è una delle mail che abbiamo mandato. Come vedete, elenco puntato, sottolineato, grassetto, prezzo, che poi è diventato alla fine 477, omaggi, validità dell'offerta 20 giorni, tempi di consegna, cioè, vedete, giugno 2023 l'abbiamo chiusa adesso invece, no? L'abbiamo chiusa esattamente un anno dopo. Settimana scorsa. Tendiamo quindi un gentile di scontro che ci auguriamo positivo entro i temi indicati per poterla a servire al meglio. Cordiale saluti, Giovanni Daniele, area nord-est, bla bla bla, Alessandro, bla bla bla. Direi che questa email merita un applauso. è il risultato che hanno aggiunto 300k a quello. Ok, allora, il genere del dubbio, ragazzi, sostanzialmente questo cliente stava quasi per firmare con un competitor che costava meno, allora, il loro impianto ha 40 teste, è una macchina che dosa l'inchiostro. Tutto quello che vedete al supermercato della barilla, mulino bianco, tutte le stampe che vedete, ok, vengono fuori dai dosaggi delle macchine di questi signori. Cioè, loro dosano gli inchiostri, poi i dosaggi passano le macchine da stampa e le macchine da stampa stampano tutto il packaging, mulino bianco, barilla, adesso ce li avete tutti voi tutti voi mi sa tutti, cioè, tutti, 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 punto, nonostante erano leader del settore stavano perdendo la trattativa, ok, quindi, sostanzialmente questo cliente, siccome aveva paura dell'assistenza e delle rotture, se non sbaglio, Ale, dopo vabbè, ti lascio parlare a lui che io non so niente di questo settore, e diceva, no, ma a me conviene avere una macchina con una testa unica perché, insomma, raccontalo tu che lo sai meglio. faccio un esempio per non scendere troppo nel dettaglio poi rischio di essere incomprensibile, è come dire, una macchina a quattro ruote, una macchina a quattro ruote va bene, arriva un concorrente e dice, ma perché quattro ruote? Perché hai quattro possibilità di bucare, io ti do una macchina con una ruota sola, è una figata e costa anche di meno, ecco, questo è un po' il concetto, e lui è rimasto, come dire, ammagliato da questa semplicità perché poi chiaramente la concorrenza avrà fatto il suo lavoro quindi gli ha fatto passare questa particolarità come un'innovazione o come una cosa figa e quindi noi abbiamo dovuto scardinare questa credenza che se vogliamo può essere anche vera sotto un certo punto di vista però io devo fare il mio lavoro e quindi dico, no, guarda, se tu però bucchi una ruota tu non vai più da nessuna parte, io invece ti do una macchina che tendenzialmente come la squalo, se bucchi una ruota però puoi andare avanti perché hai le altre tre, non è che stai fermo. Esatto, quindi lui si era infilato sul fatto, ma voi avete 40 teste, se se ne rompe una chi è che me la sostituisce, diventa macchinosa, quanto costa una testa, quindi era andato molto in profondità, a quel punto là io ho detto, sì signor, però stiamo parlando di 41, e sono stato zitto. Esatto. Cosa vuol dire ancora? Cioè, noi possiamo, cioè se ne rompono 39 andiamo avanti con una e quegli altri? La concorrenza se si brucia una, voi siete fermi, non brucia più. E lui ancora, ma però quell'altra sì, sarà più semplice da sistemare, c'ho solo una di testa. Ok, le faccio una domanda, se un *** rispondo in modo sincero, 40 è maggiore di uno? Sì, siamo usciti, gli ho detto abbiamo vinto già. Applauso, grazie. No, è andata, è andata proprio così, è stata impressionante. Sì, dopo ovviamente. Poi abbiamo dato anche altre certezze, abbiamo detto guarda, siamo qualcosa tipo 6.000 impianti in tutto il mondo fino adesso. Ah sì, giusto, giusto, giusto. Ogni testa di dosaggio ha una media di 30 componenti, faccia lei la moltiplicazione, cioè se questo fosse davvero un problema, cioè noi probabilmente adesso non saremo dove siamo, quindi evidentemente questi particolari, giusto, giusto. Ah sì, aspetta, aspetta, perché ci ha chiesto le statistiche, abbiamo fatto anche le statistiche, abbiamo fatto anche le statistiche, esatto che non c'erano di tutti gli impianti che l'azienda in giro poi là in mondo per 40 test e impianto, abbiamo calcolato le problematiche, le percentuali, poi c'era una percentuale che era insignificante, dopodiché gli abbiamo detto questi cilindri che utilizziamo noi sono cilindri commerciali che si trovano normalmente in commercio, quindi se non lo vuole prendere da me tranquillamente un ISO se lo va a comprare in primo ferramenta, se lo cambia in 5 minuti il problema è risolto. Esatto. E poi gli abbiamo dato la garanzia, abbiamo dato la garanzia 5 anni, poi sono certo che quello è un prodotto, una parte della macchina che non avrà mai problemi, e le do garanzia scritta 5 anni che qualsiasi tipo di problema io corro, prendo la valigetta o viene Giuliano che non so, io l'avevo già dato. E viene a cambiare. Però ecco, capite ragazzi, questo giusto per dirvi quanto è estremamente sottile perdere o vincere una trattativa. È molto sottile, per questo dico che dovete studiare, scrivere, ripetere all'infinito. Siamo andati a un cliente. Ah sì, bravo, bravo. Dopodiché, esatto, allora, dopo questa mail qua, allora gli ho detto ok, adesso portiamolo da un cliente. Quindi lui ha mandato una mail, abbiamo organizzato un appuntamento da un cliente, quindi ha visto la macchina funzionare, e abbiamo fatto in modo che il nostro cliente vendesse per noi, quindi il tecnico gli ha spiegato perché hanno scelto quella macchina lì, che vantaggi aveva, bla 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 bla. E poi siamo andati a un, sì, sempre a un altro appuntamento per presentare l'offerta, quella light, perché dopo a un certo punto ci fa ok, ma io voglio spendere meno. E io guardavo lui e dicevo no, questa Mercedes sta a 200 mila, full option, non spende meno, è un blef. però voleva l'offerta della macchina light, toglimi questo, toglimi questo, toglimi questo, vediamo quanto spendo di meno, ti ricordi? Ed era 400, ero 8, non mi ricordo, però gli ho detto, gli ho detto, facciamo così, allora, quando presentiamo questa offerta qua, o no, quando siamo andati dal cliente, quando è che siamo andati a mangiare il pesce dopo con lui? Uno delle ultime volte. Eh, dopo che siamo andati dal cliente forse. Boh, va bene, insomma non mi ricordo, dopo siamo andati a pranzo, là c'era un ristorantino di pesce, vissima la sua azienda, quindi anche là ancora relazione, 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 ulteriore avvicinamento, 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 finché bam, siamo riusciti a, ah, e poi lui è stato bravissimo a capire quell'esigenza lì, perché il cliente voleva prendere i soldini della 4.0, però non aveva delle certezze, tornando sempre al concetto di certezza e importanza, non aveva delle certezze, e quindi gli ho detto guarda gratuitamente ci mettiamo a disposizione una persona che ti può fare impacchettare tutte le pratiche, vi ricordate quando vi ho detto che i clienti amano sentirsi comodi, no? E quindi questa ulteriore comodità ha fatto sì che, giusto? E abbiamo chiuso, ieri ero proprio con questi signori che gli curano la pratica della 4.0 per concludere la cosa, non so quanti di voi sanno cosa sia, sono degli incentivi statali. Allora, sono impianti di una certa complessità, sostanzialmente il cliente voleva riutilizzare delle parti esistenti, di una parte di impianto che però insomma è stato dismesso, e quindi riutilizzare quelle parti sarebbe stato per noi un problema, perché vuol dire fai una progettazione, andando a riprendere una progettazione vecchia, antica, di cui poi ti devi anche assumere un rischio, quindi diventa poi difficile. Loro però volevano risparmiare, alla fine gli hanno detto guardi, io se le do una macchina così a 455, la garanzia sarà solamente per questo, questo e quest'altro, di tutto il resto non mi posso assumere la responsabilità. o la cosa che gli ho detto io è anche se lei ci fa i conti in tasca di ogni singolo componente non ne viene fuori perché se anche lei si compra tutti i pezzi e si costruisce la macchina non ha il nostro software e quindi vuole farsi lei la macchina va bene se la faccia lei il software costerà 600 600 mila questo uguale non cambia il prezzo ma come se la macchina la faccio io sì ma la ferraglia non conta niente senza il software quindi lì l'abbiamo proprio distrutto ricordi perché lui stava cercando di fare i conti tolgo questo tolgo questo per risparmiare tolgo di qua tolgo di là facciamo questa versione ma le pompe me le compro io ma questo me lo compro io quest'altro me lo compro io perché c'è il nostro ricarico e allora gli ho spiegato il nostro ricarico è frutto di 25-30 anni di innovazione esperienza e migliaia di impianti in giro per il mondo è chiaro che lei può comprare la stessa pompa magari da noi costa 5.000 sul mercato la pompa costa 1.000 ma non è tanto il costo della pompa è tutto quello che fa girare il sistema e la garanzia che gli diamo e il software che ti diamo che è un software proprietario quindi non ne veniamo fuori lei deve prendere il sistema intero il pacco il pacco intero perché anche se ti fai la macchina tu senza il mio software non fai niente capite? perché lui cercava qualsiasi modo dopo quando si è reso conto che la macchina effettivamente era migliore allora ok ha scartato la concorrenza però era lì che giocavano che diceva no aspetta un attimo però vediamo come riesco a risparmiare dei conti sì sì lui trattava il nostro impianto come una commodities perché lui vende commodities e quindi lì puoi fare un costo al litro noi vendiamo tecnologia e quindi la tecnologia come fai a dargli un prezzo? tecnologia è tecnologia esatto non puoi fare il calcolo della pompa del componente del tubo quindi il parametro di valutazione del cliente era in base alle sue credenze perché come hai spiegato tu adesso lui la valutava in funzione a come lui valuta il suo prodotto bravo e invece tu vendevi una cosa completamente diversa e quindi se non capivi sta roba esatto e poi motivarlo perché capirlo magari c'era anche arrivato ho capito bene è fatto proprio di trovare il canale giusto per fargli passare queste informazioni e poi anche comunque riprendere un qualcosa che lui ha già in testa mettergli giù la mail che gli fa fare tutto un ragionamento e che gli fa capire che io mi fido delle sue scelte io gli ho scritto alla fine abbiamo scritto al di là di tutto io so che lei farà la scelta giusta noi siamo la Mercedes palla lei è fuori è una Mercedes si è è un imprenditore che ha che dopo in trattativa ha fatto intervenire il figlio quarantenne che non c'era imprenditore di 70 anni uno che era ex autista di questa azienda portava in giro il titolare dopo l'azienda è andata male insomma lui l'ha comprata e l'ha sviluppata l'azienda 80 milioni leader anche mi sembra quindi era tosta cioè ci avevi uno con il contropelo dall'altra parte quindi voi a seconda di chi avete dall'altra parte dovete adattare il vostro registro comunicativo ok perché noi quando parlavamo con la manager era una cosa poi a un certo punto è subentato il figlio e quindi qua riparti ancora da zero perché abbiamo dovuto raccontargli tutto anche al figlio perché lui a un certo punto cosa ha fatto si è tolto e ha detto devi parlare con mio figlio ecco questo era un passaggio chiave che avevamo saltato ok quindi noi allora parla con il figlio e dopo è ritornato in scena lui in un anno ne sono successe e dopo no aspettate un attimo perché sto rilevando avevo un socio aspettate un attimo e adesso devo rilevare le quote dell'altro socio quindi per i prossimi tre mesi non voglio sentirvi però già il fatto che ha detto nei prossimi tre mesi non voglio sentirvi segnali d'acquisto dopo perché dopo sì quindi segnali d'acquisto verbale cioè sono tante adesso ne abbiamo mappate alcune ragazzi però se dovessi dirvele tutte dovrei proprio ricordare ecco però diciamo che quelle principali ve le ho passate insomma ve le abbiamo passate allora sì lui via telefono via mail qualcosa facevi e dopo siamo andati là quattro cinque volte adesso non ricordo cinque volte quattro volte insieme la prossima settimana sono da loro però adesso il Gianni ci chiama per nome ciao Alessandro ah sì sì aspetta aspetta all'inizio all'inizio ecco altro passaggio perché adesso un po' la volta mi viene in mente del lei no insomma dopo io piano piano Gianni ho iniziato col Gianni e dopo adesso e anche e gli davano del lei a lui a lui gli davano del lei invece adesso carissimo carissimo amici amici empatia esatto ragazzi esatto come abbiamo fatto noi io ho fatto una mail del genere non so se Alessandro gliela avesse fatta vedere all'amministratore delegato prima penso di no non gliela hai fatta vedere a Christophe no e io ho detto guarda questa è la mail ideale da mandare stiamo dicendo in maniera rispettosa che noi siamo il numero uno e gli stiamo dicendo che lui è un grande e farà la scelta giusta ovviamente abbiamo rischiato quando tu devi tirare il cazzotto l'ultimo minuto o va dentro o non lo becchi però d'altronde era così non potevamo inchinarci e leccargli i piedi avremmo perso quindi gli ho messo davanti scelta A scelta B gli ho detto guarda se vuoi il prezzo vai pure per la strada A e dopo alla fine gli ho detto qualsiasi sia la tua scelta a noi va bene perché tu saprai come scegliere nel fare queste azioni così forti si viene valutato anche l'aspetto caratteriale che della persona a cui sono rivolte queste azioni nel senso che a volte capita anche a me di farle e poi quando sono da solo dico si ho fatto bene ho fatto male e a volte con successo e a volte ho avuto anche reazioni contrarie magari sbagliando un momento e la reazione contraria che ho avuto ho avuto perché la persona dall'altra parte è estremamente orgogliosa tu non permettermi di affrontarmi o di sfidarmi ok però tu sei visto io gli ho detto le cose in modo estremamente rispettoso dopodiché alla fine comunque gli ho detto guarda che tu scelga A o che tu scelga B io sono certo che tu farai la scelta giusta non gli ho detto che tu scelga o che tu scelga B a me non interessa perché quello lì te lo rivolti contro se aggiungi quelle parole là se vedi tu dici io tu sei un grandissimo imprenditore sei bravissimo so che farei la scelta giusta basta infatti l'ha fatta ha comprato noi punto funziona sempre no ragazzi cioè magari funzionasse sempre ok chiaro non funziona sempre basta che funzioni in metà delle volte 30% delle volte 7 su 10 ma secondo me vince più di 7 su 10 perché in pochi lo fanno perché in pochi lo fanno esatto in pochi hanno il coraggio anche di osare ovviamente una mail del genere io ho considerato parecchio chi c'era dall'altra parte cioè sei uno che ha fatto un'azienda così 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 arrivati a un certo punto quello che vi dicevo anche ieri ragazzi voi non è che dovete convincere il cliente voi dovete spiegarlo al cliente che voi non siete lì per convincerlo io non devo convincerti io so che se tu scegli me sarà la miglior scelta per te ma non ho voglia di convincerti se mi dai la possibilità di lavorare assieme e ci proviamo ti dimostrerò che ho ragione ma la scelta la devi fare tu non io che cazzo ti convinco cosa spingo cosa capite il ragionamento allora a quel punto là allontanandovi tanto dalla vendita dall'altra parte c'è una reazione senso di perdita quindi il cliente dice no aspetta un attimo ma perché questo qua mi dice così eh ti dico così perché non abbiamo bisogno di lavorare per forza con te anche se perdiamo un contratto da 600.000 euro ovvio che ci dà fastidio ma non posso fartelo vedere avete capito il ragionamento non posso fartelo vedere che mi dà fastidio o perde il contratto invece a maggior parte i venditori cosa fanno fanno vedere che gli dà fastidio perdere il contratto e quindi magari incalzano incalzano perdono di vista il risultato finale perché pensano un po' al loro ego incalzano il cliente perché devo insistere insiste invece no ci sono dei momenti in cui dovete allontanarvi 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 a quel punto là il cliente riflette dice ma perché questo si allontana avete visto anche che gli ho scritto sulla mail perché questi qua gli avevano fatto anche uno sconto importante gli avevano fatto uno sconto importante e io nella mail gli ho scritto guarda che gli altri ti hanno fatto uno sconto importante perché forse hanno bisogno di vendere primo punto secondo punto ma se ti fanno uno sconto importante non hanno più soldi poi per investire in ricerca e sviluppo come fanno cioè rischi di comprarti una macchina che magari tra un po' cioè a parte che era obsoleta non so perché era così convinto di comprare quella roba lì però lui era convintissimo capite quindi ho messo assieme tanti tasselli e per mettere assieme tutti questi tasselli ragazzi dovete avere una velocità mentale impressionante la velocità la raggiungete con l'esercizio continuo e con la ripetizione continua dovete mai smettere di ripetere non pensate di essere arrivati perché nel momento in cui pensate di essere arrivati vi arriva una stecca sui denti che ve li fa perdere tutti capite? è così per tutti ragazzi ok? è così così cioè ripeto finché i soldi non sono in conto corrente non c'è la vendita giusto Ale? infatti dopo a un certo punto ci hanno detto erano lì lì ok sì dai va bene firmiamo e dopo altri tre mesi spariti ti ricordi? ma adesso se si infila qualcos'altro qui in mezzo si tocca ripartire da zero cosa facciamo? chiamano? mamma mia mamma mia va bene dai andiamo avanti ragazzi ciao 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 ciao